Il brand LACUS si affaccia sulla scena internazionale. La terra dei laghi di Lesine e di Varano guadagna il prestigioso palcoscenico della BIT 2023, la Borsa Internazionale del Turismo in programma dal 12 al 14 febbraio prossimo a Milano ed entra nel circuito dell'offerta turistica mondiale. Nella giornata dedicata al pubblico dei viaggiatori, domenica 12 febbraio, nell'area conferenze dello stand della Regione Puglia all'interno del padiglione 3 sarà presentata la seconda edizione di LACUS, la terra dei laghi, in programma a settembre. In occasione della prima edizione, che si è tenuta dall'8 al 10 dicembre scorso, è stato lanciato il brand LACUS, la terra dei laghi, per identificare la destinazione turistica delle lagune di Lesine e Varano, sul Gargano, a nord della Puglia, in linea con le tendenze degli ultimi anni che includono lo slow travel, la sostenibilità e le mete meno battute ma ricche di fascino. L'evento poi ha innescato un processo di sviluppo turistico che individua nell'enogastronomia il vettore trainante, chiave di lettura del territorio, abbinata alle bellezze del paesaggio dei due laghi costieri più grandi d'Italia, caratterizzati dalla presenza dell'istmo che li separa dal mare. lingue di sabbia, di interesse naturalistico, ricche di vegetazione e meravigliose spiagge incontaminate. L'obiettivo è destagionalizzare l'offerta e attirare più turisti possibili. La partecipazione alla BIT 2023 si inserisce proprio nella strategia di internazionalizzazione e l'edizione di quest'anno si concentra sul turismo sostenibile, responsabile e lento, considerato la grande opportunità di crescita per tutto il sud Italia. L'ACUS, la terra dei laghi, rientra nel calendario delle iniziative turistiche di particolare importanza della regione Puglia e la BIT rappresenta una vera vetrina per eccellenza del prodotto turistico perché è la piattaforma più importante per l'incontro tra la domanda e l'offerta, una preziosa occasione per promuovere la terra dei laghi di Lesina e di Varano.